Facciamo un applauso a Giuseppe Fiorini da Siracusa Dunque, tutti questi campioni internazionali ti ricorda qualcosa? Tantissimo, si, si, bei ricordi, brutti ricordi Però fa sempre piacere averti qui Anzi, farei di tutto per organizzarne sempre di più Perché aiuta a crescere E tenersi in allenamento, credo E condividere la stessa passione, soprattutto Soprattutto anche nella tua città Sì, sì, sì Quindi responsabilità alta oggi A Shanghai ce l'avevi pesante, oggi? No, 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 molto free Molto free oggi E cosa vai a presentare oggi? Veloce, intanto che i giudici hanno finito? Oggi presenterò un Vortex È una bevanda a mio piacimento, libera Che sarà una fogliolina, un tulip reverse E due foglioline laterali all'interno del fondo della moca Perfetto, i nostri giudici sono pronti Li facciamo salire in pedana Perfetto, i nostri giudici sono pronti Perfetto, i nostri giudici sono pronti Perfetto, i nostri giudici sono pronti Mancano tre minuti Mancano tre minuti Perfetto, i nostri giudici sono pronti 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 Manca un minuto Un applauso a Giuseppe Fiorini Un applauso a Giuseppe Fiorini Grazie a tutti